La mostarda di Cremona, vecchio, antica tradizione di una salsa che da sempre si accosta ai formaggi, alle carni e salumi, noi della Fieschi abbiamo ripreso un sacco di vecchie tradizioni, vecchie ricette e abbiamo cercato di riproporle anche in chiave moderna. Il fatto di voler rivalorizzare il nostro territorio e le nostre specialità ha fatto sì che nel corso di queste ultime decine d'anni la nostra azienda è riuscita a farsi conoscere non solamente in Italia ma anche all'estero e esportiamo in parecchi paesi del mondo oltre anche l'Europa, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone e via discorrendo. Quindi portiamo la bandierina non solamente italiana ma anche di Cremona in posti molto lontani e questo per noi è anche un piacere. La mia famiglia è proprietaria del più antico negozio di Cremona che si chiama Sperlari, questo negozio che è aperto da fine 1700 ma dal 1811 è stata la prima drogheria con annessa di produzione di torrone e mostarda. Questa data è precisa ed è certificata da un archivio storico della Camera di Commercio di Cremona. è stata aperta da un certo Curtarelli che nel 1836 l'ha ceduta alla Enea Sperlari. Enea Sperlari è stato il primo che ha lanciato in maniera industriale, tra virgolette un industriale come poteva essere allora, la produzione di questi prodotti tipici e una particolarità di questo negozio è che era stato uno dei primi tre punti luce che ci sono stati a Cremona. Uno davanti al Palazzo Comunale, uno davanti a una farmacia nell'attuale Corso Campi e il terzo posto è sopra questo negozio. Il perché della luce? Il perché della luce è molto semplice. Da qua è arrivata la luce elettrica e per la prima volta hanno potuto utilizzare delle macchine elettriche per poter arrivare alle varie preparazioni, torrone compreso. Il menaturon, detto in dialetto cremonese come una volta, quindi era un lavoro faticoso che veniva fatto a mano e di conseguenza non dava mai un prodotto che potesse essere costante, in questa maniera incominciava ad avere uno standard qualitativo molto più elevato rispetto alla lavorazione esclusivamente manuale. Tornando al nostro negozio, la nostra famiglia è proprietaria ormai da quasi un secolo di questa attività e nel corso degli anni si è sviluppato non solamente la vendita dei prodotti tipici ma abbiamo allargato tutte le referenze, ne contiamo circa 3.500 che spaziano ovviamente dai dolciumi, dai prodotti tipici ai distillati di ogni parte del mondo e un angolo particolare per l'enoteca dove contiamo almeno 900 etichette diverse con un archivio e una cantina di antiche annate anche molto ricercate. Siamo sempre stati attenti alle esigenze dei vari consumatori e da almeno 6 anni abbiamo iniziato l'e-commerce seguendo quelle che sono le attuali esigenze di mercato. Allora, la mostata tradizionale di Cremona, indipendentemente dalle marche che vengono proposte, è fatta di frutta candita intera, come si fa la canditura. La canditura e perché si fa la canditura? Allora, l'esigenza della mostarda è un'esigenza molto antica di quando non esistevano strumenti di conservazione come i frigoriferi, celle e via discorrendo, era salvare la frutta che magari in una certa stagione era prodotta in abbondanza e non gettarla, quando realmente il problema era mangiare e sopravvivere. Perciò si è arrivati a prendere questa frutta, raccoglierla e conservarla in salamoia. L'antichissimo uso di conservazione della frutta, acqua e sale. Nel momento in cui si arriva alla produzione vera e propria della mostarda, si prendono i singoli frutti, perché ovviamente ogni frutto, oltre che avere una sua stagione, una sua dimensione, una sua struttura molecolare, ha una forma particolare che richiede determinati trattamenti. Penso volentieri, molti consumatori ci scrivono, ci telefonano, ci chiedono, come mai tante volte la mostarda non ha più sapore di una volta. Allora, ogni azienda ha le sue ricette, noi certamente come Fieschini abbiamo anche noi una nostra che fa sì che la nostra mostarda sia più piccante, più saporita rispetto ad altri per una scelta aziendale. Però tutto questo sapore si affievolisce col passare del tempo. Man mano che passano i mesi, il sapore piano piano perde, perché l'intensità aromatica del termine corretto piano piano decade. Decade anche causa, oltre che per il tempo, anche per il calore, se lo esponete al calore perde il sapore prima del tempo. Quindi, qual è il consiglio? Comperate la mostarda quando realmente vi serve e cercate di consumarla nel giro di un mesetto dalla data di acquisto. Abbiamo una serie di monogusti, albicocche, pere, ciliese, cedro, fichi, castagne, zucca, arance in filetti, clementine, chinotto e filetti di limone. Più una serie di altre, un'altra mostarda di uva e un altro tipo che è la senapata. I sapori, come dicevo, cambiano in relazione alla struttura molecolare di ogni singolo frutto e si arriva a, per i consumatori che vogliono, che sono troppo felici, che vogliono piangere un pochettino perché l'eccesso di senape fa lacrimare e fa respirare con intensità diversa, ci sono tutti i gusti che arrivano dagli agrumi. Quindi sono arance, limoni, clementine e il chinotto. Questo perché? Perché l'olio che è contenuto nella buccia, che è un olio essenziale, e questo olio essenziale viene usato sia in farmacopea che anche in profumeria, reagisce in maniera molto energica, molto gagliarda, con l'olio essenziale di senape e quindi esalta ancora di più il sapore. Ecco perché ci ha questa propria sensazione di lacrimazione, di un profumo che esce anche dal naso, che è per gli appassionati veramente un plus. Io mi permetto sempre di consigliare invece dei formaggi piuttosto freschi, piuttosto dolci, in modo da poter equilibrare l'eccesso di piccantezza di questa tipologia di mostarda.